Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. In apertura di telegiornale chiaramente gli aggiornamenti sul coronavirus in Molise. Oggi si registrano 87 nuovi casi positivi a fronte di 701 tamponi processati, 3 purtroppo sono i decessi. Ci sono anche 24 casi tra quelli nuovi di oggi riscontrati nella casa di riposo Salubritas di Montaquila come comunicato dai vertici della RSA. 17 sono gli ospiti e 7 i dipendenti. Ma sentiamo tutto l'aggiornamento nel servizio di Tonino Danese. In Italia sfiorati 40.000 contagi in un giorno con 425 decessi su oltre 231.000 tamponi processati. In Molise resta elevato il numero di nuovi positivi al covid. Sono 87 su 701 tamponi processati, 3 i decessi comunicati dall'ASREM. Una persona di 66 anni, residente a Termoli, che era ricoverata in terapia intensiva. E una persona di Montaquila e una di Sant'Elia, Fiume Rapido, provincia di Frosinone, che erano in malattie infettive. 48 i deceduti dall'inizio della pandemia, secondo l'azienda sanitaria regionale. Gli 87 nuovi casi, tutti definiti appartenenti a cluster noti, sono 19 il numero più alto di Campobasso, 13 di Termoli, 8 di Boiano, 6 di Sernia, 4 Riccia, 3 di Colletorto e Guglionesi. 2 casi di Casacalenda, Frosolone, Montaquila, Ripalimosani, Rotello, San Polo, Matese e Vinchiaturo. Un caso rispettivamente riguarda Baranello, Campo di Pietra, Campomarino, Castelpetroso, Cerce Maggiore, Ferrazzano, Gildone, Ielsi, Monte Cilfone, Pietrabondante, San Pietro Avellana, Sant'Elena Sannita, Spinete, Trivento, Ururi. Ancora un caso rispettivamente di Poggio Imperiale, provincia di Foggia e Sant'Elia, Fiume Rapido. Molti ricoveri 11, tutti in malattie infettive. Si tratta di due persone di Campobasso, una di Busso, una di Boiano, una di Rocca Sicura, una di Termoli, una di Petacciato, una di Sernia, una persona di Santa Croce di Magliano, una di Venafro, una di Castelpetroso. Tre i dimessi da malattie infettive rispettivamente di Bagnoli del Trigno, Celenza, Valfortore e Termoli. Tre anche i guariti riportati nel bollettino dell'ASREM di Bagnoli del Trigno, Celenza, Valfortore e Isernia. Gli attualmente positivi in Molise sono 1.664. I ricoverati al Cardarelli sono 47, di cui 40 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Si è appreso anche del decesso di due persone anziane della casa di riposo Samnium di Vinchiaturo, di cui ha avuto notizia anche il sindaco Luigi Valente. Anche nella casa di riposo Salubritas di Montaquila è entrato il coronavirus, contagiando 17 anziani e 7 dipendenti, in tutto 24 persone. La notizia è stata confermata dai vertici della RSA, riferendo che è stato predisposto un reparto Covid allestito secondo i protocolli e le norme vigenti. Al momento i pazienti, che non presentano particolari criticità, sono monitorati da due medici a turno e da cinque infermieri e cinque operatori sanitari in forza solo al reparto Covid. Intanto a Castelpetroso l'azienda sanitaria regionale si è attivata per eseguire i tamponi molecolari direttamente nel paese, che ha registrato un altissimo numero di contagi, come ha fatto sapere il sindaco Michela Tamburri. I test saranno effettuati lunedì per evitare così spostamenti verso Venafro e per sbloccare le numerose persone in isolamento. e sempre a Castelpetroso, prorogata la chiusura di tutte le scuole fino al 14 novembre anche a Morrone del Sannio, dopo le positività riscontrate dopo la notizia del contagio del medico di base che opera a Casa Calenda e che cura anche famiglie di Morrone, disposta la chiusura delle scuole dell'infanzia ed elementare sempre fino al 14 novembre. Stessa decisione a Montaquila con ordinanza del sindaco Ricci. E adesso purtroppo la cronaca con un incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio. Un uomo di 60 anni di Yelsey è stato travolto dal trattore mentre stava lavorando nel podere accaduto in contrada parruccia tra Yelsey e Riccia. Da una prima ricostruzione il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi sul posto 118, i volontari della croce di San Gerardo e i vigili del fuoco. A nulla sono valsi i tentativi per rianimare l'uomo che purtroppo è morto per le gravi ferite riportate anche alla testa. I rilievi da parte dei carabinieri per la ricostruzione della dinamica. La notizia ha destato sconforto nella comunità di Yelsey ma anche a Riccia di dove era originario l'uomo morto nell'incidente. E adesso torniamo alla pagina Covid perché ci sono 17 nuovi posti disponibili presso il reparto di malattie infettive. ad annunciarlo ieri sera nel corso della trasmissione ingresso libero il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano. Salgono quindi complessivamente a 52 i posti disponibili a malattie infettive ma ascoltiamo tutto nel servizio. Potenziato il reparto di malattie infettive all'ospedale Carterelli di Campobasso. Ultimati nella notte i lavori della nuova ala che ospiterà altri 17 posti che si vanno ad aggiungere ai 35 già disponibili. A dare la notizia nel corso della trasmissione ingresso libero andata in onda su Telemolise il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano. Salgono così complessivamente a 52 i posti attualmente a disposizione per fronteggiare l'emergenza Covid. Noi abbiamo sempre avuto come limite massimo 35 posti letto però abbiamo anche sempre specificato parlo delle malattie infettive che abbiamo una gestione e una possibilità di agire a fisarmonica quindi di reagire alle circostanze perché sappiamo benissimo che a fronte di un elevatissimo numero di sintomatici possiamo avere bisogno di maggiori posti letto e quindi i 34 posti letto rispetto ai 35 non devono gettare nessuno nel panico perché già adesso siamo in grado di gestire ulteriori posti letto e nella nottata stiamo allestendo finendo di allestire quindi con le ultime apparecchiature ulteriori 17 posti letto. Mentre noi stiamo parlando ci sono gli operai al lavoro ai quali va il mio ringraziamento perché ho insistito molto con la ditta che deve ultimare i lavori affinché venissero ultimati adesso e oggi prima di venire qui ho incontrato il geometra dell'azienda che andava sul cantiere per darmi sicurezza che i lavori finiscano entro luna di stanotte. Quindi avremo nuovi posti complessivamente per 17 posti. La realizzazione della nuova struttura è stata possibile grazie ad una diversa disposizione dei reparti. La nuova ala di malattie infettive è stata localizzata negli spazi in precedenza occupati dal reparto di pediatria. Quest'ultimo va precisato è pienamente operativo ed è stato spostato all'interno del Cardarelli. Da Florenzano è arrivato anche un richiamo nei confronti di chi aveva paventato numeri inferiori di posti letto rispetto a quelli effettivamente disponibili. Si tratta, ha detto il direttore generale, di notizie destituite di fondamento che rasentano il reato di procurato allarme. Invito tutta la società civile, se posso permettermelo, a criticarci, ad aiutarci, ma non a voler cercare per forza qualcosa di contrario, per il puro spirito di contrapposizione. La notizia di oggi è la notizia di oggi. Noi, sapete, vi diamo le informazioni sul contagio, sui decessi, diciamo tutto, perché la nostra credibilità si basa sul dire la verità. Bene, è stato messo in dubbio anche questa circostanza ed è un atteggiamento molto pericoloso. si chiama procurato allarme. I dati che Asrem diffonde sono i dati che vengono inviati al Ministero. Quindi sono dati anche soggetti a controllo. Noi non possiamo permetterci di dire bugie. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, mette in evidenza l'inadeguatezza della rete di soccorso sul territorio, una disorganizzazione per la quale sempre più spesso mancano le ambulanze e quelle poche che ci sono vengono utilizzate per il trasporto dei cittadini positivi al coronavirus. Linus ha denunciato la rete dell'emergenza, lascia il campo all'improvvisazione quotidiana, una rete priva di programmazione, priva di indirizzo, ha proseguito Primiani. La prima responsabilità è quindi dell'Asrem che deve spiegare perché in Molise le ambulanze restano poche anche ora che devono garantire il trasporto dei pazienti covid. Ed è sempre l'Asrem che ha il dovere di trovare una soluzione adeguata a tutelare la salute di tutti. Molisani ha concluso l'esponente dei 5 Stelle che porterà la questione del 118 all'attenzione del Consiglio regionale. L'Alleanza delle Cooperative Italiane, sezione del Molise, ha scritto al Governatore Toma, all'Assessore Marone, ai vertici Asrem, ai prefetti di Campobasso, Isernia e a CGL, Cisle e Will per chiedere interventi coordinati urgenti a supporto delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie per anziani e non per prevenire tra gli ospiti e gli operatori la diffusione del covid-19. Hanno segnalato la mancata applicazione di una attività di screening, la difficoltà ad avere tempestivamente i tamponi per gli ospiti con sintomi o nelle fasi di ingresso in struttura o a loro rientro da visite mediche. Esterne la irraggiungibilità di molti medici di famiglia per monitorare lo stato di salute dei propri pazienti ospitati in struttura, riteniamo, fanno sapere dalla Lega delle Cooperative indispensabili una serie di interventi che garantiscano la messa a disposizione dei differenti dispositivi di protezione individuali, l'erogazione di ristori sulle mancate entrate, la formazione degli operatori dell'assistenza domiciliare, un supporto per le strutture che registrano la presenza di contagiati da covid-19. E restiamo sempre sull'emergenza covid perché finalmente, dopo tante proteste e solleciti, anche Isernia avrà il suo punto per i tamponi. Sarà installato in un container della protezione civile nel parcheggio a sud dell'ospedale veneziale. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. E' Manuel Brasiello, l'architetto isernino dirigente della protezione civile regionale che ha coordinato il trasporto e l'installazione del container che ospiterà il punto prelievi tampone covid che entrerà in funzione a breve a Isernia. Il container era a San D'Agapito e grazie ai mezzi di trasporto speciale dei vigili del fuoco è stato portato a Isernia, nel parcheggio pubblico a sud dell'ospedale veneziale. Abbiamo provveduto a recuperare questo container che avevamo a Santa Capito in provincia di Isernia dove era servito per le attività post-sisma a servizio di una chiesa del posto. L'abbiamo recuperato per venire incontro alle esigenze di Asrem che voleva fortemente iniziare un'operazione di raccolta di tamponi anche su Isernia e grazie all'intervento dei vigili del fuoco che come sempre sono veramente angeli caduti dal cielo siamo riusciti in tempi brevissimi a portare sul posto così nei prossimi giorni si attiverà immediatamente questo servizio. I prelievi saranno gestiti con la modalità drive-in cioè senza farli scendere dall'auto. Gli operatori sanitari effettueranno i tamponi sugli automobilisti o sui passeggeri delle auto in arrivo. auto che verranno instradate con un'apposita segnaletica su un percorso a senso unico. Credo che adesso in giornata riusciamo a posizionare il container nei giorni successivi metteremo una tenda per permettere alle auto di passare sotto e nel giro di un paio di giorni credo che saranno pronti anche i medici di Asrem per raccogliere i tamponi. Si va verso la chiusura per un'altra settimana dal 9 al 14 novembre del Tribunale di Sernia a causa di nuovi casi di Covid-19 riscontrati tra il personale per questo Franco Lacava, presidente della Camera Penale chiede al presidente Di Giacomo che la chiusura del Tribunale non si concretizzi in un sostanziale fermo delle attività consentendo non solo lo svolgimento delle attività urgenti ma anche l'accesso agli avvocati per il deposito di tutti gli atti di cui non è autorizzata la trasmissione via PEC. Notte di coprifuoco nel capologo di Regione a Campobasso, strade deserte con le persone chiuse in casa già prima delle 22. Non si sono registrate infrazioni spostamenti consentiti solo per lavoro emergenze e questioni di salute lungo le strade, le principali arterie posti di blocco delle forze dell'ordine e le forze dell'ordine sono dovute intervenire oggi pomeriggio a Campobasso a causa di alcuni assembramenti e sono state elevate anche delle sanzioni ma vediamo com'è andata questa notte. E' scattato nella notte alle 22 il coprifuoco su tutto il territorio nazionale strade vuote e spettrali e gente chiusa dietro le porte sbarrate sono queste le conseguenze del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che ha inasprito le limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus dopo lo stop alle ore 18 per bar e ristoranti che consentiva il protrarsi dell'attività di asporto sino alle 24 si ferma in anticipo anche quest'ultima possibilità alle 22 stop totale si ferma il mondo e la circolazione consentiti gli spostamenti solo per comprovate ragioni di necessità e urgenza, lavoro e salute. Nel capoluogo di Regione sin dalle 21 e 30 si è registrato un progressivo spopolamento di strade e arterie la prescrizione governativa è stata rispettata con diligenza dai campobassani e non si sono verificate infrazioni. A presidiare il territorio le forze dell'ordine impegnati con posti di blocco e pattugliamenti carabinieri, polizia di stato guardia di finanza e polizia municipale che hanno effettuato controlli capillari lungo le strade della città poche le auto in circolazione con gli occupanti delle autovetture tutti dotati di regolare certificazione una notte quindi tranquilla. Siamo all'altezza di Villa de Capo è circa mezzanotte uno snodo fondamentale per la circolazione della città di Campobasso alle nostre spalle un posto di blocco dei carabinieri abbiamo visitato altri luoghi della città altri snodi importanti siamo stati in Piazza Pepe in Viale Manzoni altre forze dell'ordine che sono in campo in questa prima notte di coprifuoco la guardia di finanza la polizia di stato la polizia municipale sostanzialmente a due ore di distanza dal coprifuoco che riguarda tutta Italia ricordiamolo c'è stato un sostanziale rispetto della regola le persone sono restate a casa anche prima delle ore 22 chi si è spostato lo ha fatto soltanto per ragioni di necessità di urgenza di lavoro oppure per motivi di salute la prima notte di coprifuoco degli italiani dei molisani e dei campobassani è stata rispettata in pieno sul fronte dell'isolamento imposto nella zona gialla nella quale ricade il Molise c'è da registrare la chiusura nel fine settimana dei centri commerciali dove resteranno però aperti i supermercati a rimanere aperti anche farmacie parafarmacie tabacchi e parrucchieri e adesso in compagnia di Piacentino Salati andiamo a vedere come è andata la scorsa notte a Isernia da qualche minuto sono passate le 22 la prima serata nottata di vigore del nuovo DPCM quello del 3 novembre che prevede a partire da oggi il cosiddetto coprifuoco notturno dalle ore 22 alle ore 5 del mattino qui siamo in Piazza Mercato alla mia sinistra la cattedrale di Isernia e sostanzialmente possiamo dire che il coprifuoco è rispettato qualche auto ancora che sta facendo rientro probabilmente i cui ovviamente occupanti stanno facendo rientro nelle proprie abitazioni tutto chiuso le attività commerciali il bar qui di fianco e qualsiasi attività appunto chiusa ma questo è anche un effetto del DPCM in vigore dal 26 ottobre che prevede la chiusura dei bar e dei ristoranti alle ore 18 chiaramente anche gli altri esercizi sono chiusi dalle 20 questa è la situazione nel pieno centro storico di Isernia nella prima serata nottata di entrata in vigore del cosiddetto coprifuoco ed anche in piazza Celestino Quinto dove ci sono molti locali come potete vedere la situazione che si presenta allo sguardo è questa locali chiusi ovviamente tutti gli arredi sono sistemati ed è una piazza di solito cuore pulsante soprattutto nel fine settimana desolatamente vuota e anche Corso Garibaldi si presenta così nella prima serata dell'entrata in vigore del nuovo DPCM del 3 novembre che spiega i suoi effetti proprio a partire da questa notte fino alle 5 del mattino è vietato circolare dalle 22 appunto alle 5 salvo per comprovati motivi di lavoro necessità e salute e c'è comunque la raccomandazione a non spostarsi salvo che per urgenti ragioni questa dunque la situazione da Isernia con propria ordinanza il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso ha imposto l'obbligo ai cittadini provenienti dalle zone cosiddette rosse arancioni di comunicare il proprio arrivo in paese direttamente al primo cittadino attraverso un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica dedicati l'adempimento si somma alle imposizioni contenute nell'ordinanza emanata dal presidente della regione chiunque quindi dovesse giungere a Petrella Tifernina da una delle regioni ricadenti nelle aree di medio e alto rischio oltre ad adempere agli obblighi imposti dal governatore dovrà preoccuparsi di comunicarlo anche al sindaco Amoroso proteste dei genitori delle quattro classi dell'Andrea di Isernia che sono state ubicate nell'edificio rosa delle dogane a fianco dello stabile principale della scuola media di Isernia in sostanza i ragazzi sono finiti in quattro classi ricavate dai corridoi o archivi degli uffici della dogana tanto che sono stati disposti in lunghezza su ben otto file di banchi il che significa per gli studenti che sono agli ultimi banchi non poter sentire i docenti e non poter vedere nulla alla lavagna una situazione francamente intollerabile che ha visto le famiglie lamentarsi e chiedere al comune di provvedere celermente a trovare spazi più idonei oltretutto spaventa anche la promiscuità con l'ufficio delle dogane e la mancanza di uscite di sicurezza o vie di fuga in quanto le classi sono state ubicate ai piani superiori dell'edificio e adesso cambiamo argomento numerosi i tentativi di truffa a termoli negli ultimi giorni la CEA la società che si occupa del servizio idrico ha dovuto smentire la presenza di suoi operatori per le case invitando a chiamare le forze dell'ordine tentativi di truffa anche per telefono a chi ha un conto alle poste come testimoniato da un audio inviato a Telemolise ci racconta tutto Manuela Iorio Nelle ultime settimane si è registrata un'impennata di tentativi di truffa a termoli i settori sono i più disparati e vanno dai servizi delle utenze e conti postali diversi cittadini hanno segnalato ad esempio ad Acea Molise la società che si occupa del servizio idrico integrato della presenza di sedicenti dipendenti della società che hanno bussato alle porte delle abitazioni chiedendo il pagamento immediato di presunte morosità relative a mancati versamenti di bollette l'Acea ha diffuso subito un avviso che è stato condiviso anche dalla pagina facebook istituzionale del comune di Termoli informando la cittadinanza che Acea non invia personale a domicilio per la riscossione delle morosità che vengono comunicate invece con una lettera via posta anzi i residenti vengono invitati a contattare immediatamente le forze dell'ordine nel caso si presentino sconosciuti per conto di Acea ma non si è trattato dell'unico tentativo di truffa che i termolesi hanno ricevuto negli ultimi giorni numerose le segnalazioni per telefonate arrivate da persone che si sono qualificate come ispettori dell'ufficio postale di Roma che chiedevano di fornire i codici del conto corrente per effettuare un aggiornamento alle nuove norme più telefonate arrivate da persone diverse ora con accento campano ora con accento siciliano questo l'estratto di una conversazione registrata che una cittadina di Termoli ha voluto fornire a Teemolise per mettere in guardia gli altri residenti sto dicendo che sono l'ispettore Andrea Colucci che chiede dall'ufficio postale di Roma lei può dire quello che vuole io sto registrando la sua chiamata io la porto adesso in Polizia e vedo che cosa dice perché sono andata all'ufficio postale e hanno detto che a me non mi ha chiamato nessuno ok ok signora lei sta registrando la chiamata giusto che sia così insomma i malintenzionati sono sempre in agguato e le tecniche di truffa si fanno sempre più sofisticate la raccomandazione principale resta quella di non fidarsi mai l'antica fonderia Marinelli ha ospitato l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo l'ex numero uno della Fiat è giunto ad Agnone per ritirare una campana prodotta ad hoc non è la prima volta che personalità di spicco fanno tappa nella storica fonderia conosciuta in tutta Italia e nel mondo un anno fa ci lasciava Fred Bongusto per ricordare il cantante Campobassano per la prima volta le telecamere di Telemolise entrano nella casa natale del cantante nel centro storico del capoluogo dove oggi vive la nipote di Bongusto Alessandra Lorito un viaggio inedito tra i ricordi e i cimeli legati alla carriera dell'artista con il racconto di Tiziano Carozza che da alcuni anni ha avviato un lavoro di ricerca sulla vita del cantante sentiamo questa è la casa diciamo dove Fred Bongusto è cresciuto adesso entriamo dentro ci sono delle foto che adesso possiamo far vedere mi raccontavi qualche episodio proprio su questi gradini sì esattamente era questa la casa di Fred anche con con la famiglia ritratto da piccolissimo piuttosto che da adolescente sull'ingresso di questa casa inizialmente l'ingresso non era qui da dal mercato coperto ma come abbiamo visto da via Marconi che è la via che cita anche in diverse sue canzoni come strada in cui è nato e cresciuto allora qui si respira aria di Fred Bongusto in ogni angolo in questa casa abbiamo messo su Alessandra ha messo su un disco di Fred ci sono tutti i vinili di Fred Bongusto in particolare questo ve lo faccio vedere perché è una chicca ed è il primo disco in assoluto che ha inciso il primo LP che ha inciso Fred nella sua lunga carriera però ci siamo appassionati nel nel vederli tutti Tiziano allora raccontaci adesso vediamo un po' di cose ci sediamo raccontaci un po' quante cose quanto materiale c'è che è stato raccolto su Fred e che qui viene conservato come accennavi da tutta la discografia a tantissimi documenti che ha raccolto e conservato la sua famiglia in questa casa e che Alessandra che è la sua prima fan la sua nipotina adorata conserva gelosamente dopo sua madre che era sorella di Fred oh qui c'era anche una rassegna stampa innanzitutto perché qui ci sono tutti i giornali gli articoli che sono stati scritti su Fred Bongus e sono migliaia qualsiasi rivista giornale era custodita gelosamente da lei piuttosto che da alcuni suoi amici ci spieghi cosa sono questi libroni questi libroni sono nient'altro che degli album in cui veniva ritagliato qualsiasi passaggio di Fred su qualsiasi rivista nazionale e locale che fosse sia dalla sua famiglia che da alcuni suoi più stretti amici in particolare questi sono stati a cura di Peppino Fagnano che era uno dei suoi più cari amici c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare insomma sul periodo lungo che Fred Bongus ha trascorso in questa casa e comunque nel centro storico di Campobasso questa casa è sicuramente importantissima perché ha segnato l'esordio di Fred come musicista e cantante tant'è che da alcuni racconti che ho avuto tramite alcuni sui amici di come in questa casa ormai in cui non c'era più il padre scomparso quando Fred aveva soltanto sette anni lui quasi sentisse il richiamo della passione per la musica del padre e si è avvicinato alla chitarra e alle prime canzoni ed è in questa stessa casa dove ha composto le sue prime canzoni che sono Frida e Doce Doce qui tornando a quello di cui raccontavamo prima della sua adolescenza con tutti gli amici e le amicizie vorrei citare Paolino Riuno qui davanti a tutti qui era a scuola altre foto di famiglia Fred e il suo rapporto con i nipotini in questo caso Massimo appena nato e tutta la sua famiglia e qui c'è Fred al matrimonio della sorella grande assente alle prove del festival di Napoli per assenza giustificata ok poi ti volevo chiedere insomma il Fred calciatore commentaci un po' queste foto Fred calciatore è stata una delle sue più grandi passioni d'adolescente qui aveva appena 15 anni quando giocava con la Libertas era un quotatissimo centro mediano citandolo è una passione che ha dovuto abbandonare negli anni per un brutto infortunio ma questo infortunio ha segnato il suo inizio con la musica anche qui nella squadra eccolo qui Fred Bongusto sono tornato con gioia credetemi è stato bello è complicato su 10 km terribili però era bellissimo io le 7 di sera c'era questo tramonto incredibile sembrava quasi stare a Campobasso si è passato un molissimo un molissimo due giorni sono e c'entra fiori in occasione del primo anniversario della scomparsa di Fred Bongusto domani alle 16.30 nel centro storico in via Chiarizia l'amministrazione comunale di Campobasso svelerà ufficialmente alla città la statua dedicata a Fred Bongusto commissionata al maestro Alessandro Caetani e realizzata nei laboratori della fonderia Marinelli ad Agnone alla breve cerimonia rispettando le misure anti-covid parteciperanno oltre ai familiari di Fred Bongusto anche il sindaco Roberto Gravina l'assessore alla cultura Paola Felice lo scultore Caetani e i rappresentanti della fonderia Marinelli e restiamo ancora al mondo della musica purtroppo con un lutto è morto Stefano Dorazio storico batterista dei Pù e un pilastro della musica italiana suonato spesso nella nostra regione dove aveva molti amici sentiamo il ricordo di Giuseppe Carriera che più volte lo ha intervistato per Telemolise ognuno di noi ha forse avuto una ragazza dagli occhi di sole si è commosso per le 50 primavere insieme dei genitori o avrebbe voluto il mondo quando ha detto dimmi di sì sono tanti i successi dei Pù scritti o interpretati da Stefano Dorazio per circa 40 anni batterista del gruppo scomparso la notte scorsa il suo percorso con la band era iniziato nel 1971 quando Valerio Negrini gli aveva passato le bacchette e lui era salito sulla macchina della musica dall'alto della sua batteria con i Pù 46 milioni di dischi venduti 3.500 concerti 350 canzoni migliaia di chilometri intorno al mondo dal Canada alla Trilogia dei Tropici curando la regia di video e backstage anima sensibile pragmatismo romanesco conquistava tutti con il suo sorriso tra i pezzi scritti da Dorazio pronto buongiorno e la sveglia qui nell'esecuzione live del 1980 con sul palco il morisano Pasquale Di Lauro la batteria di Stefano era qualcosa di unico di completo giovanissimo aveva consumato le pelli come turnista della RCA oltre che nei complessi della capitale per comprare la sua prima Ludwig come quella di Ringo Starr ne avrebbe cambiate 22 nella sua lunga carriera sempre più complete affiancando vibrafono percussioni flauto-traverso nel 2009 decide di scendere temporaneamente da quell'astronave per dedicarsi con maggior forza a progetti e sfide di successo ad esempio nel musical come Aladin con il compianto Manuel Frattini il legame con la band e con i suoi amici per sempre rimane vivo però nelle successive reunion e anche solo sette mesi fa quando risponde all'amico Facchinetti in lacrime per quanto succedeva a Bergamo di getto Stefano compone il testo di Rinascerò Rinascerai per raccogliere fondi per l'ospedale di quella che amava come la sua seconda città un inno poi tradotto in molte lingue la speranza vuole anche quella vuole essere di imparare qualcosa da questa storia cioè di cercare di rimettere di nuovo i sentimenti l'uomo e quant'altro al centro delle cose e quindi bypassare tutte quelle sensazioni di egoismo che ci hanno accompagnato in questi io dico ultimi anni ma non è vero ormai stiamo parlando di secoli è questa l'ultima intervista rilasciata a Tele Morise via Skype Stefano è stato in concerto in Morise in diverse occasioni più volte a Campobasso poi Campomarino e Carpinone e aveva amici veri anche qui mentre sono migliaia di fan rimasti attonenti per la notizia della sua scomparsa ma nel mondo della musica si sa un arrivederci non è mai un addio però qui sopra qui sopra io ci lascio sicuramente il mio cuore e prima di scendere però voglio dire un grazie ad uno ad uno a tutti quanti voi per tutte le emozioni che mi avete regalato in tutti questi anni grazie bene si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte